Di voler fare 20 chilometri come il vecchio Visconti, con un po' di grinta che mi mancava da tempo. Ho detto che non c'è niente da perdere, sono qui con gente super veloce, gente che sta bene. Colbrelli l'avevo già visto, Bennati mi ha fatto davvero impressione oggi, soprattutto in salita, una sicurezza pazzesca. Quindi ho detto che se va male, alle brutte, ho fatto divertire i miei amici, i miei tifosi, la mia famiglia che è qui e faccio un piazzamento come tanti altri. Se va bene, vinco. Un tempo quando mi mettevo a fare anche gli sprint, insomma, mi è capitato tante volte di perdere le gare proprio così in questi momenti. Ci sono questi attimi in cui si azzecchi proprio il secondo giusto e i più veloci si guardano quel tanto che ti basta per arrivare all'arrivo. Quindi ho provato la prima volta, è andata male e ho riprovato ancora perché sapevo che poteva esserci quell'attimo di tubanza da parte loro che sicuramente mi avrebbero battuto, quindi quello è stato il mio pensiero. Grazie. 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 Grazie.